Sì, è 0 su 3 per Reich, ancora una possibilità, ancora fuori, ora la Scavolini Gruppo Spar può vincere la partita, ci proverà sicuramente, mancano 4 secondi, Myers per Morri, Morri la tripla e Morri, Morri mette la tripla che dà la vittoria ai pesaresi. Quindi una cosa davvero importante e anche questa volta la calma, l'esperienza ha pagato. No, qui ha pagato gli errori ai tiri liberi di Rush e gli errori alla fine del primo tempo, negli ultimi due minuti demenziali di Iesi che dopo aver accumulato un vantaggio enorme in un minuto e mezzo l'hanno dilapidato e ha rimesso in perfetta partita la Scavolini che da squadra di grande esperienza non si è lasciata sfuggire per ben due volte l'occasione per vincere poi questa partita. Bene, a me non resta che confermarmi il punteggio, 78-75 alla fine di questa bella partita tutto sommato, ha realizzato all'ultimo secondo Mauro Morri servito da Myers.